Con il patrocinio di Regione Lombardia, Comunità Montana, Valle Seriana e Federazione Italiana Sporti Invernali Paralimpici, Schipession organizza per sabato 4 marzo la gara di Coppa Italia FISIP, un programma intenso. Ne parliamo con Marco Zanotti, uno degli allenatori. Sì esatto, per il 4 marzo abbiamo organizzato una gara di Coppa Italia Paralimpica per la Federazione Italiana Sporti Invernali Paralimpici che si svolgerà a Montepora sulla pista di Coppa Europa nel pomeriggio di sabato 4 marzo dove verranno atleti di tutta Italia con diversi tipi di disabilità fisiche sensoriali pensando alle persone non vedenti, ipovedenti, chi scia da seduto con l'ausilio di monosci, stabilizzatori alle persone magari che sciano in stazione eretta, amputati alle braccia, alle gambe e così e si incementeranno tra le varie categorie proprio in questa gara importante su questa pista di rilievo delle nostre località sciistiche. Esatto, pista Coppa Europa al Montepora, pista che ha ospitato come dice il nome gare davvero importanti di Coppa Europa di sci alpino ma ospiterà anche la vostra gara apertura della ricognizione 14-15 inizio gara alle 15 con premiazioni poi al 17-30 gara aperta a tutti ma soprattutto ai tanti tifosi che vorranno venire a sostenere questi atleti proprio sabato pomeriggio. Sì esatto, noi abbiamo creduto molto in questo evento proprio organizzandolo qui sulle nostre stazioni sciistiche perché crediamo in questo movimento, crediamo che questi atleti meritano visibilità e tra le varie gare di Coppa Italia del circuito italiano abbiamo proprio scelto una destinazione di queste tappe qui nelle nostre stazioni proprio per far conoscere agli atleti giovani e meno giovani e anche ai turisti di cosa sono capaci queste persone che non hanno limiti anzi sono delle forze della natura e affrontano la discesa senza paura. Eh sì, tutto questo sabato 4 marzo in quel del Montepora ma chiaramente insomma come sempre funziona per questo tipo di eventi poi ci sarà una serata conviviale, una cena tutti insieme anche per celebrare la chiusura di una stagione ricca di appuntamenti. Sì esatto, a seguire ci saranno le premiazioni dove verranno premiati tutti gli atleti, i partecipanti e ci sarà comunque una cena dove tutti festeggeremo tutti insieme assieme anche ai volontari, i genitori dell'associazione Schipescio che si saranno impegnati e avranno dato una mano nella realizzazione di questo grande evento perché non è da poco organizzare una gara così e occorrono tante persone, tante figure che ci danno una mano e che devono seguire tutto l'evento. Grazie a Marco Zanotti e in bocca al lupo! Grazie a voi, buona serata!